La prima volta che l'ho visto ho pianto per tutto lo spettacolo. Non riuscivo a fermare le lacrime. Siamo una bella squadra, ne parlavo proprio ieri con uno degli elettricisti. Qui c'è la voglia di aiutare gli altri, di lavorare bene per far lavorare bene gli altri. Solo se si lavora in serenità e veramente con un aiuto reciproco si può portare a casa un risultato di valore come è Casanova. 120 costumi, ci sono 35 cambiscena, 21 performers, 10 danzatori. C'è talmente tanto fermento ed è bellissimo perché capisci proprio quanto tutto questo cast, sia artistico che tecnico, tengano a questo meraviglioso spettacolo. Ed è bello perché quando c'è questo scambio di passione e di energia poi non si può sbagliare. C'è tanta umiltà di base da parte di tutti, di tutti i reparti, a partire da Red, Bea. Tanta gratitudine, viene riconosciuto sempre il lavoro e viene visto ogni giorno. E si è sempre pronti a migliorare, ma a migliorare insieme. Io dico sempre che è come se fosse uno spettacolo sul palco e c'è un altro spettacolo, un altro show dietro le quinte. Tutte le persone si sentono a casa, in famiglia, e questa è una cosa che mi dicono loro. Forse perché in effetti è un lavoro che parte da una famiglia e quindi l'ambiente, l'atmosfera che si respira è quella. Io sono molto soddisfatta e orgogliosa di questi ragazzi. Casa Nova Opera Pop ha un sottotitolo che è è tempo di innamorarsi. Ci si innamora del cast, ci si innamora delle atmosfere, ci si innamora delle musiche. Noi tutti ovviamente ci siamo innamorati di Red Canziano, quindi è tempo di innamorarsi.